Io penso che se qualcuno di voi ha qualche domanda simile alla tua, la devono fare a Mendelibar, perché lui non ha contratto e sembra che la sua situazione sia più complicata che la mia. Io ho parlato con i miei due capitani che vengono qua, ho parlato con loro, loro mi hanno fatto una domanda molto simile alla tua, a loro ovviamente ho risposto di un modo molto obiettivo, non voglio che loro rispondano perché è una cosa fra io e la mia squadra, però loro sanno perfettamente quello che penso io. Di là c'è una differenza molto molto grande con la situazione con l'Inter, perché la mia situazione con l'Inter, io non avevo firmato ancora il contratto con Real Madrid, però era solo una questione di firmare, era tutto fatto, e in questo momento ho zero contatti con altri club, e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa. Al di là di questo, io non mi interesso per niente, quello che è importante siamo noi, 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 e domani siamo noi, è così che vogliamo giocare, noi, noi vogliamo giocare.